You seem confident I haven't killed anything Oh hell no Stupendo Quello counter alla discesa Metti via l'arma Così fa quello e io faccio così Ho 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 Come scusi? Sono contro Jade E' evidente che sa giocare bene Capisci subito Va 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 Volevo farla troppo questa Questa è la cosa che fanno Molto male però 122 punti ma quando vi capita a me quando eh? Mai Bene Vedremo Scorpion versus Keno Mi mancava in effetti Mi mancava in effetti uno Scorpion Oh no Questo fa finta di essere Imbranato Questo mi fa il mazzo Oh 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 Questo mi fa il mazzo Ho genuinamente paura Comunque Con quale Ranger me lo stai dicendo? Oddio Oddio conosce Keno Sono fregato No perchè ho tolto Non ci credo Non ci credo Ok Meno male Ho sprecato il crash and blow più facile Come quale con catena di combo Non ci credo Ok Meno male Abbiamo missato entrambi Molto interessante quello qua Oddio Cioè addio Scorpion È stato bello conoscerti Ok Keno main Keno main Keno main Addio Jade Addio Erron Keno Is on the way Aia Chi sceglierà mai Tom Tom? Mi sa chi sceglie Keno Perchè sapevo come parlare le cose di Keno Jackie 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 Brix Ho paura Ho genuinamente Paura Vedete comunque l'occhio di Keno Comunque il tubo che va all'orecchio è bellissimo Bellissimo Ha 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 Ok Lo sapevo che avrebbe fatto quello Lo sapevo Oddio mi ho sbagliato la cosa più semplice Il problema è che non la conosco così bene Dai Ok No No Oh mio tio Mamma mia Que pelo Non so come falto Che cavolo stai facendo signora Vix Cosa mi ti becchi Cosa mi ti becchi signora Vix Cosa mi ti becchi O meglio dire Baby Vix Bam C'è che se lo merita la fatality Uncle Uncle Kano wins Non dimenticarti Avete messo uno zio mi pare Bene 20 punti Misere 20 punti Ma Non posso lamentarmi sto vincendo Siamo ad una kill stick di 3 Di 2 Volevo dire Da quanto pare Stiamo ritornando a metà Esatto Sto recuperando tutti i punti che ho perso Ieri sera Accidenti Tiro esattamente a metà Giuro esattamente a metà Per arrivare a Grandmaster Ok 231 sconfitte Dai Posso batterlo Posso batterlo Posso batterlo Non prendere Sub-Zero Non prendere Sub-Zero Oh Fammi vedere come si usa Kano Signora Ha messo la skin Che hanno appena rilasciato Di Mortal Kombat 3 Che fa schifo Oddio questo qua è un Kano Super Main Beh impariamo da lui Questo è il massimo che posso dire Ti prego fanmi ascoltare Che cosa sta succedendo Ok Io lo uso Non te Beh Vedete non fa così schifo questa skin Penso che ha qualcosa di troppo finito Non so cos'è Ok lo so fare No volevo fare io la palla Oh boy Non farlo Wow Ok 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 Va bene C'ha del sangue strano se lo faccio Tipo perfettamente scalare Ok signor Kano Complimenti Anch'io che non paro Quanto pare Non ci credo Aspetta Posso fare anche questo Cosa sto facendo Non ci credo Non ci credo Chi lo so fare Giochiamo al gioco di Mimi No aspetta No aspetta No 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 Ok Mamma mia Il gioco della ansia Questo Ok Ok Rimani qui per favore Eccidente Eccidente Oh l'hai droppata Ok Ok 1 a 1 1 a 1 E' molto probabile che vinca lui E' molto probabile Però Soddisfazione di esserci riuscito Signore Che scemo Che scemo Che scemo Non ci credo Non farlo Ma vivo Non ci voglio credere Eh si Se sbaglio E fare le mosse Me lo merito Non ci credo No 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 Aspettate Ha perso Accidenti Ce l'ho Ce l'ho Ce l'avevo Ce l'avevo Ce l'avevo Non ci Ti ho fregato eh Lo so cosa vuole farmi Cedenti Fammi la Fammi i merci Fammi Ho sbagliato poche cose Che però hanno portato a perdere Questi 10 punti Porca miseria Porca miseria Beh ha vinto Kano Oh dio mio Dai ti prego Riporta mi piacere 50 punti A entrambi Giochiamo Equilibrio Ok non chiedo L'inframmata Verso il confronto Delle avversarie Voglio equilibrio Voglio uno Al mio livello Che possa vincere Un quantitativo Di ponteggio Equivalente al mio Grazie Di nuovo lui E di nuovo lui E di nuovo lui Avevamo vinto Contro lui Sì Per un pelo Però No Non per un pelo Amico mio Forse ora ti ricordi Chi sono Cabal Vuole cominciare Suito con Cabal Ma che bal Cioè che bello Però fammi ascoltare Il dialogo Please Round 1 Fight Ok, via Bene Bene Sì, questo giocatore purtroppo non è di più svegli Grazie che ho sbagliato È vero Non farlo, non farlo Ok Oddio Ha vinto Accidenti a me Sono un cretino Ok Interessante amico Stavo guardando verso l'altro lato Non ci crede No No, ha vinto Non ci voglio credere Adesso devo vincerne due di fila Porca miseria Era fatta Era fatta Era fatta Era fatta Accidenti Che dire Complimenti Ti ho sottovalutato Ti ho sottovalutato Ti ho sottovalutato Ok Perché è fatta No Perché non avevo barre Ma sì che ce l'avevo Uh, quasi amico Quasi amico Esatto Purtroppo era imprevedibile Ok Che vero Ormai conosco questo giocatore So che avrebbe fatto Il fatal blow Accidenti Ho fatto la tua Le spazi Va bene Almeno me lo Te lo sei tolto Eh, signori Signore Ok Questo round Te lo sogni di vincerlo Eh, esatto Ora tu hai finito tutti i crash in zoom Mentre io li sto iniziando tutti Come ci si sente, eh? Eh? Ciao ciao Bene 1-1 Palla al centro Concentrazione Ritmo Velocità Coraccia Ok Ho giocato malissimo Ogni cosa Non provare Non provarci Connessione Non provarci Ok Oddio mio Las mettiamo di fuori Questi errori Vabbè Ricarichiamo le barre Basta Pronto Pronto Ora No Odio quando Troppo quella Combo Così Team mio Te la tua Connessione Va bene Va bene Va bene È così veloce quella Colpo alto Colpo alto Vai Vai Boom Questa Salve Salve Ok Forte Ultimo round Di tutto Sto perdendo Malissimo No Oh Gotcha Mate addio amico è stato bello è stato bello non voglio i cuori voglio riskin ha fatto la mossa di sempre sono riuscito a fargli il punish completo salutoni amico frizz stiamo tornando finalmente a metà sto rivedendo lo stato in cui ero ieri prima di iniziare a giocare oddia pensi anche i punti che ho ottenuto finora potremmo essere a tre quarti ok 22% di possibilità di vittoria connessione pari a zero cosa stiamo aspettando sonia sonia oh ti facciamola stiamo a sonia verso schiena ho preso la sonia di motocomba 3 vabbè dimmelo come vuoi parlare con me che fa giocare con questa connessione interessante che non ha spiegato quello ok questa sera tosta signore non so che vuoi farmi il crash in blow però dio mio spara 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 ok complimenti ora te lo sei tolto il crash in blow sei contento? via adesso la connessione è un po' piusca eh ma che strano bene si farà alto quello che schifo che schifo che vergogna che malinconia almeno non di quelli che vinceranno a 150 punti ma abbiamo un modo di recuperare signori abbiamo un modo di recuperare concentrazione di tipo velocità è vero che c'ho il maledetto perri perché mi dimentico del perri? vieni qui ora accidenti non devo farlo quando quando mi guarda che nervi ma vedi perché adesso ho cominciato anche a fare i colpi bassi mi ha fatto lei il perri dai oh dio mio eh ma peperò ok bravo che hai ritardato no non ci credo ah cioè è lei che ha fatto il blow questo mi sta dicendo non ci credo non ci credo non ci credo avevo parato però avevo perso il c merci ovviamente mi ha fatto merci per questo e va bene digeriamo il colpo abbiamo perso solo 15 punti almeno quello e andiamo avanti la prossima la vinco zero problemi Sonya e Sonya è canonico che vinca contro Keno forza tanto questa la vinco almeno che non sia Sub-Zero Sub-Zero mi spaventa molto di più di Scorpion davvero certo perdiamo 60 punti no no io declino declino ho detto declino che vergogna 150 punti ma quando io ero lì sotto ok quando io ero nel barato ero schifo nessuno di livello master si è presentato a me dicendo eh vuoi vincere 150 punti e io sì lo sentore che questo qua non sia un imbranato questo qua non è un imbranato per il fio contro Raiden Raiden non mi riesco non mi avvicinerò mai a Raiden e ogni volta che mi avvicino lo userà la bolla incredibile sono morto signore ho perso 60 punti oddio mio concentriamoci vabbè però no non ci pensare neanche no no madonna sto qua bene io c'ho il counter per quello il mio parri vale anche per quello sapete ahaha signor Raiden ahaha vai a ma a ciappare le rat non è saggio dare fastidio ad un colchino dai lo sapevo lo sapevo devo parare ma avevo partito ero partito con un'altra animazione aspettate dai mi sono ho usato ho usato gli shield ho usato porca miseria se vuoi formere la fatality al primo giro brutto pezzente che vince 150 punti questo qua vince 150 punti col picchio col picchio col picchio tu vieni a casa mia e mi rubi 150 e mi togli 67 punti a me dopo tutta sta fatica tu che sei di livello champion a causa di un matchpacking falso madonna santa ma fatemelo trovare uno di livello 60 più potente di me allora signori devo concentrarmi perché non esiste oh oh ha trovato il trucco adesso sto usando gli scudi per difendermi dall'XD quindi devo essere in vita grazie al cielo ma ma porca miseria round 2 fight per difendermi e che una per rifi il ve per rifi te la cucchi tutta questa forte forte o ti sei dimenticato per cosa stai lottando non ci può essere neanche no maledetto colpo uno 150 punti 150 punti rank up ti ranko io guarda io ne ho persi 59 io ti giuro adesso mi devi dare uno scontro degno degno fosse stato cioè quello che mi roda è che questo qui se fosse stato un classico scontro da 50 punti e l'altro perde 15 quindi pari pari non mi starei lamentando questo qua era abbastanza cioè questo giocatore qui era normale è del mio livello per più è uscito il tocchino che contro lui non è assolutamente conveniente quindi è già tanto che mi la si è cavata in qualche occasione però che cavolo che cavolo 150 punti cosa aveva più importante più di me per vincere 150 punti cioè che schifo che schifo e che diritto ha cioè 150 punti tieniteli ma non farmene perdere 60 non farmene perdere 60 oddio dialogo davvero grazie al cielo le armi che gli abbiamo dato in mortal kombat 9 aspetta siamo contro baraka è vero lo sapevo sono riuscito davvero a fare la contropresa però bene non ti è convenuto per niente sappilo oddio mio concentriamoci signori magari e vabbè non facciamolo guarda dai ho fatto due volte il parry per questo mi ha colpito se avessi parato avrei parato ah non ce l'ho oh oddio mio non vincere così non vincere così che scemo che sono che scemo che sono diciamo l'attacco più punibile di tutti però lui aveva i proiettili cioè dovevo avvicinarmi lentamente e poi poteva avere tutto il tempo per mi pinto fino a un certo punto della nostra che ho fatto niente non c'è il tempo di fare il parry oh vabbè senti adesso basta mi sono stancato vabbè sprechiamo il crashing block più importante di tutti uccidenti non si ferma mai per un secondo vabbè vince allora dai dai che schifo che schifo che schifo che schifo i pochi così bassi all'infinito mi fai schifo faccio l'ultima se perdo anche la prossima vuol dire che è davvero il momento di andarsene se la vinco deciderò se fare l'ultima o meno tutte le fatiche ottenute perse guardalo 108 ma io 22% di possibilità di vittoria 108 soltanto perché è un champion è ready tua madre ready lottiamo per semplici 22 punti chissi 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 forza aspettiamo tutti i punti che abbiamo guadagnato stasera che servivano per recuperare tutti i punti che ho perso ieri non ci arriverà mai grandmaster è inutile che cioè che schifo cioè ci credo la gente prende di qua 150 punti ogni volta e va bene non farmi vedere neanche il video complimenti sei contento? sei contento? e adesso? ma che ma sta laggando di brutto a casa? io odio odio tutto questo guardi va 78% di possibilità 100 punti di vittoria e allora dillo ovviamente tanto mi aspettava ma adesso non sono neanche più nell'umore di ragionare povera miseria vabbè fra miglia perché non posso neanche avvicinarmi non posso neanche avvicinarmi vieni non serve niente quella cosa lì nonного WHiche könntag alert se che fondamento se si vabb Week 1 se il è u mi mi 2 7 ROND ONE, FIGHT! che scemo non ci provare non ci provare ma che schifo ecco il cavolo che non gli faccio un punished come si deve cavolo mi prende il range è di una patata davvero aveva già così poco appoggio minchia il cosa sto facendo dai no signori non è possibile ma che lo sapevo io madonna santa l'ho schiacciato per fare la contropresa tornando al punto di partenza acquistiamo questo non black come unico reward della giornata e usciamo dal gioco è stato un piacere morire con voi faccio schifo e addio cioè basta basta c'è allora lotto un sacco vincendo persino con un keno prima volta che lo uso seriamente e visto che la gente ottiene un sacco di punti e dice che io sono più forte a caso io devo lottare strenuamente per poter ottenere dei punti secondo che quei punti saranno pochissimi 15 20 10 15 20 mentre la gente potrebbe vincere 50 151 50 sono un paio di volte letteralmente un paio di volte che ho dovuto vincere 50 punti oggi poi bastano quei 3 scontri che perdi te perdi 60 a botta perché ti considerano dio a quanto pare e quindi immortale non ho parole questo schifo addio ti brucia la vita sta roba in maniera negativa cioè no dannato matchmatching matchmatch matchmaking tua madre tea b ca